Ringrazio l'Alig per averci invitato a questa presentazione, cercherò di essere velocissimo. Sono Marco Ciano, sono il direttore tecnico della Bovier, molti di voi ci conoscono, distribuiamo strumenti di misura, di controllo per la diagnostica in generale del costruito. Questo lo facciamo ormai da quasi 50 anni, anzi forse più di 50 anni. Oltre a vendere strumenti ci occupiamo anche della formazione del personale, che per noi è una cosa molto importante. Oltre a questo vi faccio vedere, introduco sostanzialmente con questi filmati che spero si vedano bene. Quello di cui voglio parlare oggi, cioè della diagnostica del calcestruzzo armato in generale. Gli strumenti più innovativi e come devono essere applicati per ottenere delle informazioni interessanti. Oltre a questo, come avete detto, ci occupiamo anche di sistemi di monitoraggio di ogni tipo, adesso vado abbastanza veloce, fino alla gestione del dato in generale. Questi sono un po' gli strumenti, questo è il riassunto pochino delle indagini speciali, possiamo chiamarle così, che possono essere oggi fatte su strutture anche strategiche. Questi sono gli strumenti oggi presenti anche nelle linee guida per le ispezioni speciali, come abbiamo detto, delle infrastrutture. Partiamo velocemente, il pacometro lo conosciamo tutti. Io vi parlerò delle tecnologie, dei limiti e come si devono applicare alcuni strumenti. Quindi il pacometro lo conosciamo tutti, lo strumento base serve per l'identificazione di elementi metallici all'interno del calcestruzzo. Quali sono i suoi limiti? Che non va molto in profondità. Questo è un po' il problema generale. Quindi al pacometro in questi anni è stato abbinato un georadar. Il georadar oggi è uno strumento che, possiamo dire, è molto disfuso oggi per chi fa controlli su calcestruzzo amato. Quindi come funziona? Il georadar è uno strumentino, un giocattolino, chiamiamolo un oggettino, che sta quasi sempre in mano del tecnico. Ed è una scatolina che deve essere, qua vediamo in sezione il nostro calcestruzzo, il nostro elemento metallico, deve essere spostato ortogonale all'oggetto che vogliamo identificare. In questo modo, se noi lo spostiamo sul nostro schermo dello strumento, come vedete, il georadar è a tutti gli effetti un radar, quindi misura un tempo di andata e ritorno delle onde elettromagnetiche. In base al tempo che ci mette l'onda a ritornare, le velocità di queste onde nel materiale, noi riusciamo a identificare l'oggetto che sta all'interno del materiale che vogliamo studiare. Quindi sullo schermo dello strumento si visualizzerà una sezione 2D della struttura che stiamo indagando e il vertice dell'iperbole che noi vediamo sullo schermo, che è questa campana qua in basso, ci dà la posizione dell'oggetto che stiamo cercando. Il difetto del radar è che non è, se volete, preciso, accurato come un pacometro, quindi se noi gli richiediamo con accuratezza il valore del copriferro, su questo il radar pecca, cioè non ha la stessa accuratezza di un pacometro. Come funziona nella realtà? Vi ho detto che lo strumento, adesso vi faccio vedere uno per cercare i sottoservizi, lo strumento va spostato e in tempo reale si visualizza sullo schermo il radar gramma e l'operatore, una volta che ha finito la scansione, può tornare sui suoi passi, cioè tornare indietro, sulla struttura sposteremo indietro lo strumento, il cursore giallo si visualizza nel percorso al contrario, vedete il cursore giallo che si è posizionato adesso sulla testa di un iperbole, vuol dire che una particolare posizione dello strumento è in esatta sulla verticale dell'oggetto che stiamo cercando. Quindi l'operatore può andare, si dice, a identificare sulla superficie di indagine la posizione dell'elemento metallico o del tubo, in questo caso, che stiamo cercando. Quindi la stessa cosa, vedete, lo possiamo fare su calcestruzzo. Quindi andiamo a spostare lo strumento e poi tornando indietro possiamo identificare sulla superficie la posizione del ferro. Oggi in commercio esistono diverse tipologie di radar, diciamo che la più tradizionale è quella che ha delle antenne che si chiamano polarizzazione HH, con queste antenne si vedono bene i ferri, come abbiamo detto, ortogonali alla direzione di scorrimento, però esistono degli strumenti che oggi hanno disponibili delle antenne con polarizzazione WV, che ci, diciamo, oscurano leggermente i ferri superficiali ma ci permettono di vedere ferri più in profondità, di vedere vuoti meglio e di vedere meglio quelle che sono delle statigrafie all'interno del materiale. Vi faccio vedere come, lavorando su delle travi dove si ha una rete lenta superficiale e poi degli elementi strutturali più in profondità, come dei cavi per esempio, un radar tradizionale pecca, vedete? Un radar di tipo tradizionale ha dei problemi a livello superficiale, vede solo bene, diciamo, i ferri superficiali, mentre con la polarizzazione WV andiamo a identificare al meglio gli elementi strutturali che stanno più in profondità. Questo si ripete anche in altri casi, quindi noi qua in questo caso, con un'antenna tradizionale, vedete, a cacca, vediamo elementi superficiali, mentre in questo caso arriviamo a leggere fino alla terza o la quarta linea di ferri o di elementi strutturali che sono in profondità. Quindi avere doppia polarizzazione risolve molti problemi, soprattutto quando sono su un bridge come in questo caso e non ho molto tempo da perdere quando devo andare a fare questo tipo di rilievo. Quindi devo spostare, abbiamo detto, ortogonale alle guaine o ai cavi di precompressione e andare a identificare nella posizione. Avere uno strumento che già dispone, per esempio, di due antenne ci fa risparmiare molto tempo. Il risultato finale è un radargramma classico dove vediamo all'interno, vediamo se riuscite a apprezzare l'immagine, la rete lenta superficiale e poi la posizione dei quattro cavi. Faccio vedere alcuni vantaggi dove la polarizzazione VV, vi dico, ci dà dei risultati. Questo è un appoggio di una trave, vedete come in questo caso la posizione del cavo che è oscurata dai ferri superficiali è molto più leggibile con l'antenna con polarizzazione VV. Faccio vedere altri esempi dove questa cosa è ancora più visibile, fino a questa dove con un'antenna tradizionale non si ha alcun tipo di sentore della presenza dei cavi, mentre con una polarizzazione VV si ha subito un risultato immediato della posizione dei cavi. Bene, come si fa nella realtà? Sono sul Bay Bridge, devo segnare dove stanno la posizione dei cavi. In modo tipico, quasi da in bianchino, vado a ricalcare la posizione delle mie X e vado a proprio disegnare in modo molto semplice la posizione e il tracciato del cavo. Questo vedremo è importante perché poi uno deve andare a confrontare il progetto con quello che c'è nella realtà come primo passo, cioè verificare la posizione dei cavi con quella di progetto. Seconda cosa, se voglio applicare altre tecnologie per la diagnostica del cavo, cioè se c'è difetto o meno all'interno della guaina, devo andare a sapere con precisione dov'è la posizione dell'oggetto che voglio studiare. Naturalmente i radar possono essere usati 2D, possono essere usati anche 3D. Questo per esempio è un filmato di un pavimento industriale, di un laboratorio che è vostro naturalmente affiliato, che si è comprato poi questo strumentino. Quindi scendo piano piano in profondità, adesso sto guardando il pavimento in pianta, scendo piano piano e a circa 10-12 cm di profondità riesco ad apprezzare la posizione e la disposizione delle reti. In questo caso siamo stati fortunati, c'era la ripresa delle due reti, l'abbiamo identificata in modo molto semplice e molto immediato. Naturalmente posso fare dei 3D e posizionarli, le immagini tomografiche quindi viste sempre in pianta, per la posizione dei cavi. Naturalmente questo predispone il fatto che l'operatore in campo faccia più lavoro, nel senso faccia più strisciate parallele tra di loro per poi costruire una matrice di dati che poi possiamo visualizzare in pianta, quindi in sezione parallela alla superficie di indagine. Ci sono altre antenne più o meno di alta frequenza con cui possiamo anche andare a studiare il bulbo che di solito poi è un po' l'elemento più complicato da studiare per la densità di ferri presenti nel bulbo. Naturalmente questo è un sistema elettromagnetico, quindi noi non possiamo andare a vedere se c'è o meno il difetto all'interno della guaina, perché se la guaina è metallica il segnale viene riflesso in modo completo, cioè non riusciamo proprio a dare questo tipo di informazione. quindi dimenticatevi il fatto che con questo strumento possiamo andare a fare una sorta di studio se c'è o meno il difetto all'interno della guaina. Ecco, per il rilievo geometrico degli oggetti metallici all'interno della struttura, di solito poi si procede a una misura manuale, spesso si va lì col metodo e si fa così. Le alternative oggi abbiamo visto i laser scanner che possono essere comodi da utilizzare, oppure degli strumenti che ci facciano una sorta di fotogrammetria, quindi fare delle misure, fare delle immagini che sono poi misurabili. Questo mi accorcia di tanto poi il lavoro, quindi anche se mi dimentico di prendere una misura, poi un'immagine è facilmente rimisurabile. Quindi oggi posso andare a usare un disto di altissima fascia, per esempio, e fare una sorta di rilievo geometrico di quello che noi abbiamo identificato con un pacometro o con un radar. Naturalmente si possono anche poi delimitare delle aree, naturalmente questo poi con un software da ufficio tutte queste cose si possono fare. Quindi una volta che ho fatto il rilievo posso andare a confrontare il progetto con la realtà. Quindi questo è il primo passo con cui possiamo lavorare. Poi come altra tecnologia possiamo proporre degli ultrasuoni. Gli ultrasuoni, diciamo una tecnologia oggi consolidata, gli ultrasuoni usano onde di tipo P, quindi onde compressionali, io do una sorta di martellata alla mia superficie e aspetto dall'altra parte con un bel accelerometro, cioè dall'altra un bel accelerometro, aspetto che quest'onda attraversi la mia struttura. Per capire che cosa, quanto tempo ci mette quest'onda ad attraversarla. Naturalmente oggi non voglio parlare dell'ultrasuono, cioè della prova ultrasonica basica, perché questa, ho detto, è abbastanza conosciuta. Noi dobbiamo cercare di capire non quanto è la velocità delle onde P in un materiale, io voglio vedere com'è la distribuzione della velocità all'interno di un materiale, per capire se c'è o meno una sorta di difetto all'interno del materiale. Come si fa questo tipo di prova? È una prova naturalmente più lunga, si mettono giù una serie di punti in cui metterò i trasmettitori e una serie di punti in cui metterò i ricevitori e si vanno a fare una serie di prove consecutive, quindi terrò fermo il trasmettitore, batterò dall'altra parte della mia infrastruttura tutti i punti in cui metterò il ricevitori e andrò a fare le misure su tutti questi punti. Il risultato qual è? Ottenere una serie molto densa di misure e da questa sequenza di misure molto approfondite io riesco a andare a, grazie dei software di inversione, posso andare a visualizzare delle immagini 2D della mia sezione della struttura in cui riesco a capire com'è distribuita la velocità delle onde all'interno della mia sezione. Quindi, come sempre, velocità più basse vuol dire che l'onda ci ha messo più tempo ad attraversare l'oggetto perché probabilmente c'era un difetto o un materiale più scarso, vedete che il software che noi andiamo a vedere ci ridisegna più o meno anche l'andamento della curva, quindi noi prima siamo abituati a vedere le curve diciamo ideali, il software ti calcola anche tutte le deformazioni di queste linee di misura che le utilizza poi anche per fare i calcoli di questa immagine finale. Naturalmente l'immagine è leggibile, riusciamo a capire bene dove c'è il difetto o meno, quindi dove c'è una microfrattura, in questo caso all'interno del marmo, stessa cosa naturalmente possiamo farlo con geometrie diverse. Quindi questo è utilizzare un sistema di ultrasuoni tradizionali per fare delle prove diciamo tomografiche, quindi la tomografia è una metodologia, cioè come applico una tecnologia in modo diverso, cioè un metodo di prova, cioè una sequenza di operazioni che io devo arrivare a fare per riuscire ad arrivare a un risultato. Esistono anche altri tipi oggi di strumenti che sono diciamo molto utilizzati oggi per la diagnostica delle gallerie e dei ponti, degli impalcati in generale, che sono i tomografi a ultrasuoni. Questo è uno strumento che esiste diciamo da diversi anni in commercio ma negli ultimi anni ha preso molto piede. Questo strumento è dotato di diversi sensori, sono sensori che lavorano a secco quindi non hanno più necessità di un accoppiante per fare la prova. Quando io uso un sistema con accelerometro o sistema piezoelettrico per fare una prova tradizionale a ultrasuoni, se non utilizzo un accoppiante io assolutamente non riesco ad avere alcun tipo di risultato. Invece questi sensori non solo lavorano a secco ma lavorano con onde di taglio. L'onda di taglio, adesso non sto a farvi la lezione sull'onda di taglio, sono più adatte per identificare difettologia all'interno del materiale però hanno meno energia, si attenuano prima nel materiale. Quindi qual è il problema? Che per usare un tomografo in realtà i primi tomografi lavoravano a linee di sensori, come vedete abbiamo una linea di trasmettitori e poi tutte le altre linee di ricevitori ricevevano il segnale trasmesso dalla linea di trasmettitori. In questo modo io ho un'onda più energetica che può essere tranquillamente ricevuta da tutto l'array di ricevitori. Poi naturalmente si passa alla seconda linea a essere utilizzata come trasmettitore e tutti gli altri fanno da ricevitore. In questo modo si fa proprio una tomografia, cioè si trasmette e tutti gli altri ricevono, in questo modo si fa il processo di prima, cioè riesco a capire com'è distribuita la velocità delle onde nel materiale e riesco a determinarne la difetologia all'interno o la presenza di elementi all'interno del materiale che sto studiando. Naturalmente quello che voi vedete ci è applicato poi una sorta di migrazione, una focalizzazione delle onde che noi registriamo per poi vedere il difetto puntuale. Viene utilizzato molto anche nelle gallerie per identificare lo spessore. Quando i radar per esempio nelle gallerie non hanno efficacia perché probabilmente ci sono dei problemi legati alla conducibilità del materiale che stiamo utilizzando, il tomografo ci viene molto in aiuto. Questo perché quando l'onda di taglio incontra un vuoto l'aria c'è riflessione totale, cioè io non riesco ad attraversare l'aria, cosa che invece può fare un radar. Quindi quando io arrivo al difetto o arrivo all'interfaccia calcestruzzo-roccia o alla riflessione totale. Quindi per identificare lo spessore, come si vede molto bene qua, lo spessore di una galleria del rivestimento, il tomografo in modo puntuale, quindi dove vado ad appoggiare il mio strumento, funziona in modo molto preciso e accurato. Questo invece è l'esempio quando il difetto sta prima dell'interfaccia. Quindi quando io ho un problema di disomogeneità del calcestruzzo o del ricoprimento ho questo tipo di problema, cioè io riesco, è l'aria, cioè la disomogeneità che mi dà riflessione e quindi ho questo tipo di immagine che è poco leggibile. In realtà ci sono delle linee guida per identificare i difetti e le fratture all'interno di questi tipi di dato, ma vi assicuro che non è semplice da ricondurre un'immagine tomografica che noi vediamo alle 4 o 5 che sono all'interno di un protocollo che è stato scritto circa un anno e mezzo fa. Naturalmente questi strumenti possono essere di diverso tipo, possono essere configurati in diverso modo. Questo che vi faccio vedere è l'ultimo oggi presente in commercio che oltre a lavorare in modo lineare come abbiamo visto prima può lavorare anche in modo matriciale, cioè ogni trasmettitore, ogni sensore può essere un trasmettitore, un ricevitore allo stesso tempo. In alcuni casi migliora il risultato finale, in altri casi soprattutto quando la vado a lavorare sui cavi l'immagine mi risulta un pochino più frastagliata, un pochino più divisa e magari è poco leggibile. Questo è un po' quello che può fare, questo l'ho rubato a un articolo giapponese molto interessante, questo è un test site molto carino e questo vi fa vedere quello che può identificare un tomografo quando viene utilizzato. Oggi come vi ho detto viene utilizzato molto per lo studio dei cavi, quando io faccio uno studio su un cavo posso decidere di usare un tomografo e batterlo completamente in modo completo sulla superficie di indagine, ma in questi anni in cui abbiamo fatto diverse prove con diversi nostri clienti e anche con altri gestori di infrastrutture, vi assicuro che il risultato migliore si ottiene quando una volta io ho identificato il cavo e vado a spostare lo strumento lungo il cavo, questo perché ci fa risparmiare tempo e riusciamo a localizzare in modo più semplice la presenza o meno di un difetto. Come funziona? Appoggio lo strumento, schiaccio un pulsante, aspetto qualche secondo e sullo schermo si presenta la nostra immagine. Quindi quello che voi vedete adesso è la sezione di un'anima di una trave dove noi vediamo lo spessore della trave e la presenza del cavo. Naturalmente qua si apre un capitolo in cui io mi sono speso notevolmente dove per capire se c'è o meno un difetto all'interno della guaina, cioè se c'è vuoto o meno all'interno della guaina bisogna saper utilizzare questo strumento, non è che tutte le persone possono prendere questo strumento, accenderlo, appoggiarlo alla struttura, se viene rosso c'è aria, se viene niente vuol dire che è tutto a posto. Naturalmente quando noi consegniamo gli strumenti formiamo il personale, però non sempre poi chi segue il corso è quello che fa la prova, ma non voglio entrare in questa cosa qua. Lo strumento quindi deve essere settato in modo che quando io sono su una guaina buona io ho sostanzialmente non riflessione dell'oggetto, mentre se io sono in presenza di aria devo avere una riflessione totale. Questa è l'anima normale, questa è settata per vedere l'oggetto metallico, non è settato lo strumento per vedere se c'è un difetto. Devo settarlo in modo, come abbiamo fatto in questo laboratorio di un'università italiana molto famosa, qua c'è il cavo pieno, cioè non c'è difetto e qua c'è difetto. Quindi io devo essere capace oggi, perché non c'è altra alternativa, di settare lo strumento in modo che quando io sono su un cavo pieno, su una guaina piena scusate, non devo avere molta riflessione, ma quando c'è presenza di difetto, devo avere una forte riflessione. Questo è fondamentale, quindi l'operatore che va a usare questo strumento deve essere uno che è coscienzioso di quello che sta facendo, deve sapere che in quel punto con molta probabilità non c'è il difetto e setterà lo strumento per lavorare su quel punto, in modo che poi identificherà al meglio il difetto. Questo è un altro non vi posso dire quale, però insomma. Quindi anche qua vedete, spero si possa vedere, ci sono dei tratti più rossi dove probabilmente c'è difetto e dei tratti meno marcati dove non c'è difetto. L'unico modo per verificare questo è quello di andare a fare una prova diretta, quindi andare a prendere il mio bel trapano, fare un foro, mettere dentro l'endoscopio e andare a vedere se lo strumento ci ha dato un'informazione corretta o meno. Quindi questa è una tabella riassuntiva sui vantaggi di un radar e di un tomografo, quindi oggi il radar viene utilizzato per la localizzazione sostanzialmente dell'oggetto che poi vogliamo studiare, che in questo caso poi useremo un tomografo per vedere se c'è o meno il difetto. Vi ripeto, usiamolo con l'intelligenza questo strumento, perché oggi stiamo investendo soldi per una ricerca col Politecnico di Milano perché si possa togliere questa modalità applicativa, però l'operatore doveva essere sempre lui che setta lo strumento in modo intelligente. Però non vogliamo più dire se è rosso è cattivo, se è giallo è buono. Stiamo studiando altri parametri su cui possiamo lavorare per arrivare a questo tipo di risultato senza avere dubbi, senza aumentare i colori, avere comunque il problema. Stiamo lavorando in questa direzione e spero presto di darvi un software che possa darci una mano a tutti. Esistono altri strumenti che possono essere utilizzati per la diagnostica e sono questo strumentino è sempre un ultrasuoni con punte a distanze fisse. Questo viene utilizzato sostanzialmente per vedere la qualità superficiale del calcestruzzo. Posso dire una cosa che potrete insultarmi tranquillamente, ma oggi si possono dire che questo strumento è capace di darvi la resistenza del calcestruzzo. È sovradimensionato. Il mio sogno sarebbe prendere questo strumento, studiarlo, l'ho già fatto fare in una tesi del figlio di un proprietario di un laboratorio in Italia e che ha fatto un confronto tra sclerometri, ultrasuoni e anche questo. Leggermente sovrastima perché questo è uno strumento russo tedesco, quindi studiato per calcestruzzi russi. Quindi leggermente diverso dai nostri. Sarò felice di farvelo provare. Perché questo sinceramente evita tutta la parte meccanica, è un ultrasuoni, quindi comunque vedere la cricca o vedere la difettologia superficiale del calcestruzzo si può fare. Da lì poi anche io mi piacerebbe perché questo lo appoggi sulla superficie di indagine con diverse inclinazioni e alla fine ti dà un numerello. Ora da lì a crederci al numerello, siccome anch'io sono il primo scettico nella vita, mi piacerebbe provarlo. Però l'ho già fatto provare e alcuni risultati su due o tre laboratori hanno dato più o meno la stessa impressione. Quindi ancora non me la vendo sta cosa e so che passare su nuove tecnologie è sempre complicato, ma spero che prima di andare in pensione si faccia qualcosa di nuovo. Esistono altri ultrasuoni, sempre un DP, questi lavorano sempre a secco, molto comodi da utilizzare. Quindi questi sono strumenti tradizionali, quindi la cosa buona di questi è che non hanno necessità dell'accoppiante. c'è solo un problema di posizionarli sulla superficie di indagine in modo corretto come orientazione dei sensori. Un altro strumento che sta nell'elenco degli strumenti papabili per trovare difetti all'interno delle guaine, anche su molti articoli internazionali, soprattutto americani, è l'impateco. Ora io sono un tecnico, quindi mi piace dire le cose come stanno. Quindi questo è uno strumentino che voglio continuare a testare naturalmente. Però se mi chiedete se ha dato dei buoni risultati, a livello italiano vi direi non tanto. Però vi spiego come funziona, perché lo scopo per me è sempre fare un po' di divulgazione. Quindi c'è un bel accelerometrino, lo appoggi sulla superficie di indagine e poi è un battitore. Il battitore può essere integrato come questo strumentino qua, quindi una piccola punta che picchia, oppure ci sono le palline famose, siamo arrivati fino a utilizzare il martellino, un martellino che ho fatto modificare con una punta tipo da rompighiaccio per dire. molto fine. Questo perché dare il colpo impulsivo è segno di dare, diciamo, coprire una banda di frequenza, scusatemi il termine. Non vorrei essere troppo tecnico, però se picchio in modo impulsivo copro una banda di frequenza che naturalmente è più grande quando vado a fare la prova. Quindi anche il martello secondo me deve essere un po' appuntito. Però il concetto è questo. Come funziona? Io vado a misurare l'onda di riflessione compressionale, quindi sempre compressionale, vado a misurarne l'onda che mi ritorna, ma non è come il radar che mi interessa il tempo che ci mette ad andare a tornare. Voglio studiarlo in frequenza, quindi faccio la mia bella trasformata di Fourier e vedo com'è il mio segnale nel dominio delle frequenze. Qua vedete che cosa succede quando lavoro su uno spessore, quindi da questo picco in frequenza io riesco a capire lo spessore di un materiale. Tutto bene. Cosa succede quando c'è un difetto? Bene, quando c'è un difetto, qua bisogna vedere se è metallico o meno, qua cambia, sia il fatto che abbiamo sempre un picco in frequenza e poi se ne presenterà un altro a una frequenza maggiore. Ok, quindi cosa succede quando però un difetto? E questa è la teoria, che se voi vedete qua, buono buono buono, questa è la frequenza, l'asse delle frequenze e queste sono le varie misure che abbiamo fatto. Si ha che quando noi abbiamo solo lo spessore noi abbiamo un picco di frequenza sempre fisso. Quando arriviamo sul difetto abbiamo un picco più in alta frequenza, come vi ho detto, e uno shift verso le basse frequenze del picco fondamentale. Il problema di tutto questo è che teoricamente funziona. Il problema è che poi nella realtà tu non sai quantificare quanto è questo spostamento verso le basse frequenze, perché quando tu vai a fare questa prova che è molto affetta da problemi superficiali, quindi da come è fatta la superficie di indagine, dello stato della superficie di indagini, è chiaro che andare a capire quanto è questo spostamento verso le basse frequenze del difetto naturalmente è molto complicato. Vi assicuro che ho fatto diverse prove, anzi se volete invitarmi a fare altre prove sul campo io sono ben felice di venire, oppure darvi lo strumento e voi ci provate, perché naturalmente anche a me interessa avere l'opinione. Per esempio io ho un amico che lui lo usa questo strumento in modo abbastanza, un amico cliente, insomma ci conosciamo, è stato mio ora, io ho fatto anche ricercatore all'università, è stato un mio tesista, quindi lo conosco da tanti anni, è un consulente autostrade abbastanza conosciuto e lui ogni tanto lo usa questa tecnologia, però gli chiedo ma come fai a quantificare questo shift? E fa un bel casino, scusate, però si può arrivare, cioè con attenzione, mettendoci la testa, in tutte le prove non dirette uno può arrivare alla soluzione, però basta applicarle in modo intelligente, con coerenza soprattutto, cioè se la superficie non è buona è inutile che vado a usare questo strumento, ma in generale tutti gli strumenti a ultrasuoni. E qui il problema è che rispetto al tomografo che avendo più sensori sono meno affetto dalla posizione del difetto, cioè dov'è il difetto se è dalla mia parte dove faccio la misura o se è dietro o sotto, questo invece è affetto anche da questa cosa qua, è più problematico perché in base a dov'è il difetto avrò più o meno una riflessione diversa. Ok? Quindi si può usare, naturalmente come vedete si può fare la prova direttamente in campo, in base allo spessore o alla profondità dell'oggetto che noi vogliamo studiare dobbiamo cambiare il nostro battitore, c'è solo questo come diciamo. Faccio vedere una prova classica, quindi con un picco in frequenza intorno ai 10 KHz, scusatemi, che non vedo, e si studia, si va a fare una serie di battiture e poi si fa quel bellissimo grafico che non in tutti gli strumenti commerciali ti va a fare questo shift automatico delle frequenze e quindi diciamo l'operatore deve prendersi tutti i picchi in frequenza a costruirsi questo grafico e andare un po' a studiare lo spostamento in frequenza. Con questo finisco l'impateco perché voglio andare velocissimo, non voglio rubarvi troppo tempo. Esistono altri strumenti per esempio per la corrosione, la velocità della corrosione e la resistività del materiale. Questo l'ho fatto provare per esempio all'Università di Bologna, gliel'ho lasciato a inizio estate, adesso spero mi diano qualche informazione. Questo strumentino che sembra una piccola astronave, pregi e difetti, effettivamente l'ho provato anche nel garage di casa mia dove avevo una piccola fessura dove c'è risalita di umidità, effettivamente funziona, mi dà la presenza di resistività diversa, la velocità di corrosione diversa, quindi lo strumento in sé funziona molto bene, però se noi lo vogliamo applicare sulle travi, lo possiamo fare solo sulla rete lenta. Il mio sogno era, uso questa bellissima astronave, l'appoggio in corrispondenza del mio cavo e vedo se c'è o no corrosione. Il problema è che questo strumento non ce la fa, non ha così tanta corrente, così tanta tensione perché lui fa proprio uno sweep in frequenza di un segnale in tensione, adesso come detto non voglio stressarvi troppo la vita, questa circa curva rossa che voi vedete qua è una curva di carica, quindi in base a come si carica l'elemento che noi stiamo sollecitando, in base a un asset di curve lui precaricato, va a dirti se c'è più o meno corrosione all'interno. L'altro sogno mio era poter fare il potenziale di corrosione senza attaccarci il cavo al ferro ma è impossibile anche questo, quindi anche questo strumento se vuoi fare il potenziale di corrosione devi comunque prendere il tuo cavetto e attaccarlo al ferro per far la prova. Radiografie, qua si entrano in terreno minato perché potenzialmente la radiografia è una misura, una prova che a tutti gli effetti potrebbe essere interessante naturalmente a una serie di limitazioni che non sto a elencarvi, a parte professionisti super certificati, fare un piano di indagini che prevede lo studio della posizione dell'oggetto che vogliamo studiare, insomma la distanza delle case, il generatore che utilizziamo perché purtroppo il corpo umano anche per quando fa il radar che sono le ecografie è tanto facile, quando vado a fare la radiografia sul corpo umano è tanto facile perché il materiale è sostanzialmente uniforme, passatemi il termine. Quando andiamo a lavorare su calcestruzzo tutto questo cambia e quindi anche quando vado a fare la radiografia ho bisogno di una potenza molto elevata per fare uno spessore anche minimo, usare una potenza elevata vuol dire che dall'altra parte per anche qualche centinaio di metri non ci deve essere niente, questo è uno dei limiti e poi è chiaro che non è uno strumento che lavora in riflessione ma lavora in trasparenza, quindi se io vedo l'oggetto davanti a me molto bene quello che sta dietro non lo vedo più bene, quindi potenzialmente è capace di andare a fare delle indagini e a dirti se c'è o meno, è come fare una bella fotografia, ci può dire se c'è un elemento che ha anche una piccola riduzione della sezione o altre tipologie di difetti, però è uno strumento molto complicato anche poi da applicare sul campo, quindi l'operatore deve essere lontano sopra, insomma non è banale, adesso vi faccio vedere qualche immagine, questo è un potenziale difetto tra le due trefoli, ci dovrebbe essere dell'aria qua all'interno e poi alla fine come vi ho detto, quello che piace a tanti è l'indagine diretta. Io ho finito, spero di avervi dato delle informazioni interessanti che poi sempre quello che piace a me fare più che, naturalmente noi vendiamo strumenti, quindi non è che mi nascondo, però a me piace fare divulgazione perché poi mi piace che gli strumenti vengano usati in modo corretto, cioè sapere i limiti della strumentazione che uno va a utilizzare. Grazie per l'attenzione, vi ringrazio anche di avermi fatto passare prima degli altri, grazie mille e a presto.